ciao a tutti oggi prepareremo il sorbetto al mandarino il tempo di preparazione della ricetta di 15 minuti più 8 ore in congelatore gli ingredienti sono acqua succo di mandarini zucchero albume e prosecco diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per sei minuti 100 gradi velocità 3 aggiungere il succo di mandarini il prosecco ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 aggiungere l'albume ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 trasferire il composto in un contenitore basso e largo coprire con pellicola trasparente riporre in congelatore per almeno 8 ore trascorse le 8 ore abbiamo ripreso il composto dal congelatore adesso lo taglieremo a quadrotti e lo metteremo nel boccale chiuderemo con il coperchio inserire la spatola ed azionare il bimbi per 30 secondi velocità 8 spatolando ripetere l'operazione per altri 30 secondi velocità 8 spatolando il sorbetto è pronto servire sorbetto al mandarino grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti